Guarda, sono stato zitto perché non faccio più conferenze stave per il problema del Covid, non ho Facebook, non ho Instagram, sono un po' all'antica. Grazie perché mi hai fatto questa domanda. Noi siamo arrabbiati perché non siamo partiti, perché non sapevamo che andavamo a giocare con una squadra che stava adottando un modulo totalmente nuovo, un attore nuovo. E noi volevamo, sia io che la mia squadra nella società, fino alle 7-10 abbiamo fatto tutto per partire, abbiamo preparato l'altra settimana la partita. C'era la consapevolezza, anche se ci mancavano i giocatori importanti come ci sono mancati oggi, da parte nostra c'è la consapevolezza di andare a fare la nostra partita, con le nostre armi, con le nostre caratteristiche. E siamo i primi che siamo arrabbiati.